Non puoi pretendere che le cose cambino se continui sempre a comportarti nello stesso modo, se continui sempre a fare le stesse cose. In amore le cose possono cambiare se tu fai cose diverse. In amore le cose possono cambiare se tu metti in atto strategie diverse. In amore le cose possono cambiare se tu utilizzi dei comportamenti nuovi, dei comportamenti migliori, dei comportamenti diversi. Soltanto in questo caso le cose in amore possono cambiare, soltanto in questo caso le cose in amore si possono trasformare. Se tu impari a fare questo, allora otterrai dei risultati. Se invece non lo fai, non otterrai assolutamente nessun risultato positivo, cioè otterrai sempre gli stessi risultati. Metti un like, con l'abbonamento base potrai seguire tutti i miei seminari. Ciao a tutti!